Grazie a tutti. Do il benvenuto anche io a Taxidis e abitante, siamo molto felici di aver concluso nelle ultime ore di mercato queste due operazioni che vanno ulteriormente a rafforzare il nostro gruppo e credo che in questo gruppo saranno bravi ad entrare in punta di piedi e con umiltà ritagliarsi un ruolo importante. L'avete visto l'anno scorso, la società, l'allenatore, i ragazzi sono stati bravi a creare un gruppo solido e tutti sono stati fondamentali in ogni momento della stagione, anche giocatori come De Iola e Pisacane, magari anche per affinità di ruoli, in certi momenti della stagione sono stati fondamentali nella vittoria del campionato, fondamentali tanto quanto lo sono stati Faria, Storari e altri ragazzi. Quindi per me oggi è veramente un piacere poterli presentare entrambi perché sono sicuro che ci daranno una grandissima mano e saranno in grado di aiutare il gruppo che è quello che conta più di tutto, al di là dell'individualità. Buonasera a tutti, buonasera, ritrovo il mister Rastelli che comunque abbiamo avuto tre anni importanti ad Avellino, penso che l'ho ritrovato, ora voglio comunque dare una mano a questa squadra dando il mio contributo come ho sempre fatto e spero che la squadra e il mister lo possano apprezzare. Buonasera a tutti, sicuramente è successo anche due anni fa, è successo anche quest'estate all'inizio e finalmente sto qua, sono molto contento, non vedo l'ora di cominciare sul campo a dare la mano a tutta la squadra e di fare il nostro obiettivo. Io ho visto una Cagliari su queste due partite, molto entusiasmo e c'è un gran gruppo come vedo anche in questi giorni di allenamento e l'unico che secondo me non è stato fortunato su queste due partite perché si è fatto 0-0 con il Genoa, finisce la partita e vince, va bene, con la Roma poteva vincere alla fine, però vedo una Cagliari che si può fare grandi cose. Quello che io ho sempre fatto, ovunque sono stato, do sempre il 100% per la mia squadra, quello è successo un caso perché io ero morto, ti giuro, stavo lì a piedi, mi è levata la palla e ha detto calcio così finisce la partita. Purtroppo non era dentro e infatti poi il mister è incazzato con me e mi dice fai proprio così, tu devi venire qua e mi fai il gol così. E va bene, è successo così, ora cerco di fare ancora più gol con la Cagliari così mi perdono per questo gol che ho fatto. Io prima di tutto non posso pensare a me, devo pensare alla squadra, infatti sto venendo qua per vedere la squadra, per essere pronto a qualsiasi cosa che il mister mi chieda. E su di me devo fare sempre lavorare, pedalare e arrivare il mio momento di dire posso fare dei salti di qualità. Se lo faccio con Cagliari sarò molto contento perché vedo una società seria che ci conta i giocatori, ci sta vicino ai giocatori, cerca di fare sempre il meglio per i giocatori. Fidati che come ho detto prima ho girato un po' di squadre, ci sono poche società che stanno così vicino ai giocatori che ci aiutano a fare un lavoro che veramente li aiuta troppo. Ti dico io anzitutto come diceva Taxidis, sono venuto qua comunque per dare una mano a questa squadra a ottenere il risultato finale. Quindi giocare o terzino sinistro o anche terzino destro come riesco in entrambi i casi è indifferente. L'importante è che quando scendiamo in campo io come tutta la squadra diamo il massimo fino all'ultimo per ottenere tutto quello che c'è da ottenere. Allora io in pratica l'anno scorso già a fine anno tramite il mio procuratore sapevamo che c'era un interessamento del Cagliari. Poi l'Empoli ha fatto delle scelte nella quale ci siamo ritrovati in quattro terzini destri e quindi ho cercato comunque una soluzione dove mi permettesse di poter dare una crescita al mio sviluppo come calciatore e anche come uomo. E ho trovato in Cagliari comunque una società seria parlando da subito col presidente e quindi ho deciso di venire qui per poter continuare a crescere. Con me è stata un tardo di diva che io aspettavo da fine un po' prima e la società mi ha detto aspettiamo che succeda fino al mercato e alla fine sono riuscito ad essere qua e sono molto contento. Allora la mia scelta io ho sempre avuto il numero 20 dove Avellino per me è stato il numero importante perché è stato quando sono esordito comunque tra i professionisti a 20 anni. Purtroppo qui la 20 era occupata l'anno scorso a Empoli avevo la numero 6 che comunque mi ha portato una grande fortuna perché comunque sono riuscito a esordire in Serie A e a confermarmi comunque a grandi livelli dove tutti sognano e allora il 20 era occupata da Padolini e ho deciso di fare 20 più 6, 26. Perfetto. Solo questo. Per me io volevo sempre 7 però la prima volta che sono arrivato in Italia ero occupato allora ho fatto sempre 77 che alla fine mi ha portato bene. Sì me l'aspettavo perché Rastelli è stato sempre un uomo di grande carattere anche ad Avellino eravamo una squadra che comunque era data per spacciata diciamo eravamo una neopromossa in Serie B e nessuno ci credeva in noi e comunque siamo riusciti a ottenere in due anni un anno non siamo arrivati ai playoff per poco l'anno scorso cioè due anni fa scusa siamo usciti col Bologna per una traversa se no penso che quasi sicuramente tutta la squadra era consapevole di poter andare in Serie A io l'ho ritrovato dopo due anni e l'ho visto un po' cambiato molto cresciuto sotto tanti aspetti per quello che sono riuscito a capire in una settimana e penso che sia riuscito a crescere anche lui attraverso comunque la sua storia nel calcio più importante capendo molte cose quindi spero di aver capito bene e che anche lui sia riuscito a crescere insieme comunque al suo cambiamento di squadra. Il passato non conta quindi è il presente, è il futuro quindi cerchiamo di scriverlo e di far bene. Un aneddoto sulla maglia di Taxidis anche per scusarmi con qualche suo compagno durante gli ultimi due anni e passa di nostra gestione ho sempre preferito avere numeri di maglia bassi perché non mi piacciono le società in cui vedi un 58, un 99, un 76 eccetera 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 quindi non ho mai permesso ai calciatori di prendere numeri sopra al 30, massimo al 35 perché poi fino a 35 si riesce anche a completare con i ragazzi della primavera. Taxidis è stata la prima eccezione e spero che questo gli porterà molta fortuna banalmente, egoisticamente è stata un'eccezione perché il 77 è il mio numero, la mia data di nascita e quindi sarà l'ultimo giocatore del Cagliari che vedrete sopra al 35. Allora io ho cominciato a giocare come trequartista però quando sono arrivato qua in Italia ho visto che non giocavano più come trequartista allora mi sono cambiato e ho cominciato a capire e a giocare davanti alla difesa e spero che sono bravo di leggere un po' i tempi di gioco, di attraversari però mi serve ancora la reattività perché vedi che sono un po' alto e il mio fisico è un po' difficile e mi serve un po' velocità infatti sto lavorando e cerco di ogni giorno migliorarmi su queste cose sempre avevo visto, sempre ho parlato con i giocatori qua che stavano perché sai tra i giocatori parlano sempre come lì, come là io anche da giugno appena ho parlato per i giocatori qua come me mi hanno detto subito guarda qua è stato a Dio, è veramente stato a Dio non per la città o per il caldo, parlo della società, quello che conta io sto bene, mi sento bene, ora il mister è quello che sceglie chi fa giocare io sarò pronto 90 minuti, 5 minuti, quello che mi chiede io do il massimo sicuramente ci sarà che capire il modulo che chiede il mister i movimenti che chiede il mister, però già da questa settimana ho riuscito a cambiare un po' il modulo e cosa chiede il mister no, sono estremamente soddisfatto perché fin dal primo arrivo che è stato quello di Bruno Alves abbiamo subito messo esperienza, abbiamo subito completato l'organico in quei ruoli che pensavamo potessero essere chiave per affrontare la Serie A l'anno scorso avevamo una squadra per affrontare la Serie B, credo completa in ogni reparto magari ci mancava qualcosa per fare il salto di categoria e siamo riusciti a prendere i giocatori che voleva prendere a parte come sapete bene Rincon, bene o male siamo riusciti a completare l'organico esattamente come lo volevamo, abbiamo poi avuto la fortuna di concludere il mercato rinforzandoci ulteriormente in due ruoli dove eravamo un po' scoperti e quindi siamo veramente contenti e ripeto se sono qui oggi a presentarli a chiusura del mercato è anche un chiaro segno che perché sono soddisfatto di questo mercato e perché credo che ogni giocatore che è arrivato sarà importante come dicevo prima lo saranno loro due tanto quanto Alves e Borriello o altri come è stato l'anno scorso No, non c'era solo Bologna, c'era pure stata Lieghi che stavo parlando però appena mi ha chiamato il direttore Capo Zucca io ho scelto Bologna e ho scelto Cagliari non c'è stato di più di pensare perché lo conoscevo, mi ha portato in Italia mi ha detto guarda qua ci sta bene, devi fare bene è l'unica cosa che devi essere tu pronto in testa perché vedrai una grande squadra come dicono gli altri da fuori e lo capirei appena arrivi a questo punto io non ci ho pensato più Bologna più Stadliegis che ho firmato qua che sia fondamentale appena ho parlato con il Presidente comunque ho visto subito una serietà in un progetto e comunque anche vedendo quello che è stato fatto in questo mercato comunque essendo una neopromossa io almeno ho giocato un anno in Serie A e credo che di squadre così forti perché anche personalmente allenandomi in una settimana raramente ne ho trovate e ne ho viste anche quindi spero che comunque ci sono tutti i presupposti per far bene e ora dobbiamo metterci solo del nostro dando il massimo io di piede sono destro però riesco anche col sinistro a distraggiarmi molto bene per il Tiavellino ho giocato tre anni e ho giocato solo a sinistra con il Ministero Rastelli quindi penso che sono cresciuto in tre anni e sono riuscito ad arrivare comunque alla Serie A quindi non dico che ora sono il più forte in quel ruolo però spero di riuscire a ritagliarmi un posto comunque nella squadra dando il massimo dando la mia mano sia come terzino sinistro o nella necessità se è come terzino destro mi piace attaccare comunque poi comunque nel calcio moderno di oggi è importante sia la fase difensiva che la fase offensiva quindi penso che comunque un calcio moderno sia dato da entrambe le fasi di gioco quindi alla fine dipende dalle partite da partita a partita grazie grazie Grazie.